Il confronto con gli altri artisti per me è fondamentale, cioè anche se penso ad esempio alla scuola, ho fatto varie accademie, quindi più che gli insegnanti, sì, mi è andato di sicuro tanto, ma il rapporto con gli altri artisti per me era fondamentale, confrontarmi e poi magari in una scuola grande, dove se penso ad esempio all'Accademia di Bergamo, ci sono 100 persone, ma penso all'Accademia di Parigi dove ce n'erano 5.000, dico, quanto mi sono arricchito lì e quanto, la differenza la sentivo, insomma, per me, adesso non lo so, la portarsi con gli altri artisti è sempre più complicato, non lo so, la gente fa fatica a mettersi a nudo, non so, non si sente, ha sempre, ci sono sempre i motivi di confronto che non si intermezzano, però forse perché vive in una piccola città, magari in una città più grande, potrebbe essere diversa, non lo so, cosa dici tu? Sì, sì, no, ma penso anch'io il rapporto con gli altri, soprattutto nel campo dell'arte, con gli altri artisti, è fondamentale, ma si ha sempre meno il tempo di trovarsi e di fare, di avere uno scambio di idee, ma anche di visioni materiali, devi essere all'interno di circuiti e devi essere presente nelle varie mostre, nelle varie inaugurazioni per permetterti di avere questo scambio, il resto rimane, che ne so, la visione delle opere o al di fuori dei circuiti istituzionali, lo scambio di idee, lo scambio ma anche di capacità lavorative tra le persone, ecco, è la cosa che rimane. Secondo me è venuto a mancare un po' l'intento, come dicevo prima, della relazione, se penso ad esempio agli impressionisti o se penso alle correnti varie, penso a Van Gogh, il suo mondo isolato, però con questa voglia di rapportarsi a Gauguin, oppure Monet con Manet, cioè Renouard, cioè del tipo che... non lo so, cioè non... è un mondo che... dove i rapporti si escludono, non lo so, cioè non c'è, non sento che... che non c'è più la voglia di fare delle cose insieme o... cosa che non succede a noi, ad esempio lavoriamo in gruppo e quindi... mi piacerebbe, mi piacerebbe poterlo fare, ecco. Grazie. 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 Grazie.